Hola ragazzi, sono Krusty War ed oggi vi voglio far vedere la mia villa immersa in un mondo interamente costruito dai miei adepti. È immenso ed oggi vedremo solo la bellissima tenuta. Cominciamo l'escursione. Questo è il primo piano e come ogni piano ha due grandissime balconate. Questa è la prima. Da qui si ha una prima panoramica del verde che circonda la villa, con un leghetto personale ed alti alberi. In fondo a questo corridoio c'è la seconda balconata che si affaccia su uno strapionbo ma si può vedere il lungo canale che attraversa l'intero mondo. Maledette porte a pressur plate, not che nonostante i tuoi aggiornamenti sti pezzi di legno marcio continuano ad essere delle merde mezze bocate. Aga gaga. Ora passiamo al secondo piano. Anche qui ci sono due balconi con quasi le stesse caratteristiche dei primi due. C'è da dire che i miei adepti sono stati particolarmente bravi a sgobbare per offrire al loro padroni una casa sufficiente ai primi bisogni, evitando le solite casette in fango e merda utili solo ai nerd scavatori come rifugio. Ovviamente io non ho mosso un dito nella costruzione di questa rubaccia perché mi interessava solo buccacce drento abbandonandomi agli egoismi personali. L'imputricizia, la sporcizia, la cattiveria. Lo schifo. Ciancio alle bande, come avrete potuto già capire, il mio ispiratore è il mitico capobastone che seguo da più di un anno, divertendomi con i suoi video. Ma non vorrei che pensiate che lo stia copiando utilizzandolo quando, dato che in assenza di un buon microfono funzionante mi adatto all'utilizzo di questo programma. Appena avrò e se avrò un microfono comincerò a frustarmi in telle palle come i santi e come il sommo profeta, Matteo Montesi dalle Marche. Potete ben vedere, che gli interni del villò non sono molto arredati, dato che l'intera costruzione si incentra sulle grandissime balconate, che danno un effetto molto fico al casò visto da fuori. Quando deciderò di abbandonare questa abitazione, penso che la devolverò ai poveri senza tetto, che vivono in un camper. Magari loro danno una ripulita e ce vivono drento, recitando il rosario e costruendoci un'urna sul camì. Questo è il terzo ed ultimo piano, dove ci abita Venena a ventina di famiglie. Qui c'è la mia bellissima vasca idromassaggio all'aperto, con potenza dei getti e riscaldamento regolabili. Questo è il sommo trampolino che si affaccia sul laghetto visto all'inizio della registrazia o. Qui qua qua, invece, ci sono un po' di lettini esotici per godersi la bellissima vista panoramica. Krusty Wardys e luce, e luce fu. Krusty Wardys e kung, e kung fu. Aga gaga. Questo invece è un normalissimo tetto merdoso, dove però volevo costruirci qualcosa di abusivo, ma vedremo in futuro se avrò i big money e riuscirò a permettermi ciò che ho in mente, dato che i nerd scavatori non sono facili da schiavizzare, e bisogna uscire qualche mazzetta. Ora andremo a visitare i sotterranei della mia bellissima villa. Scale di merda, note che nella prossima patch inserisci un ascensore invece di pensare alle uova e dalla modalità line. Questa è la zona esterna, che va direttamente su un piccolo strapionbo, sotto uno dei due balconi del primo piano. e chi te lo chi lo scantinato, abbastanza inutile, come si può notare dagli scaffali e dagli armaglietti contenenti casse, che non si possono nemmeno aprire. Appena finisco la registrazione, chiamo il capo costruzione e lo riempio di insulti. Da qui si accede al punto principale del mondo. Quello che in uno di quegli ammassi di nerd scavatori, si chiamerebbe Spovn. È tutto in lan altamente incendiabile, ma co tutte le amicizie che c'ho io, di carabinieri, di polizia, di politica, nessuno può venire a griffare la mia bella casetta. Da qui si può partire per le diverse zone del mondo, tramite veloci percorsi. Questa invece è la mia personalissima arena da combattimento, dove mi alleno per diventare un ottimo combattente e griefer. Qui si possono spovnare zombie, scheletri, enderman e persino esplosivi creeper. Lo so, è tutto troppo fico e, per avere tutto ciò bisogna per forza aver fatto una vita di sacrifici per i quali non si è mai stati realmente ricompensati. Quando però si arriva a certi livelli di mani ed amicizie, si è pienamente soddisfatti di tutto il bene fatto ai poveri nerdini intrappolati nella loro vita virtuale. Questa è la sala dove passo un po' del mio tempo libero con vari giochi e film. Qui c'è la pista da bowling. Qui un qualcosa di inutile che non sono mai riuscito a capire a che cosa servisse. E qui il vano cinema. Ora vedrete qualcosa che in pochi possono vedere. La mia splendida stanza relax segreta. Come vedete basta premere questa leva, per far apparire e scomparire, come per magia, due blocchi del muro, lasciando spazio ad una scalinata che porta giù. Guardate che splendore, questo è perfetto per passare qualche ora della giornata a rilassarsi. Ora saliamo nello scantinato, perché mi sono dimenticato di farvi vedere l'altra uscita sotterranea dalla villa. Ora saliamo nello scantinato, perché mi sono dimenticato di farvi vedere l'altra uscita. Questa si affaccia direttamente sul laghetto sotto il sommo trampolino ed inoltre da qui si può osservare un'intera facciata del villo. Torniamo drento, e risaliamo queste maledettissime scale a pioli, per dirigerci nuovamente alla vasca idromassaggio, in modo da illustrarvi un mio album fotografico, nel quale c'è una mia griffata, che non sono riuscito a riprendere con la mia videocamera. Il tutto nella temperatura ideale della vasca. Eccoci qui. Prendiamo il nostro album, e godiamoci queste bellissime fotografie con in sottofondo una grande composizione del nostro sommo profeta. No 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 Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Fammi un po' andare via va, da suo posto